vi faccio vedere una cosa bellissima ovviamente come lavora male l'amministrazione contro gli interessi degli avvenuti ricordate queste strisce pedonali siamo a piazza chiesa queste sono fatte di questo materiale di pietra nero e questo materiale di pietra bianco questi erano tutti rotti l'amministrazione che cosa ha pensato bene di fare delle solite cose arranciate qui guardate ha passato l'asfalto poi per camuffarle che cosa ha fatto ha messo la pittura bianca massimo passano i cittadini in movimento in una città completamente camuffata